Buonasera dalla redazione di Firenze Smart in studio, Marco Gargini. Iniziamo dalla FIPILI dove si segnalano rallentamenti per un incidente ora risolto al km 7500 tra Ginestra Fiorentina e la Strassigna. Per il momento invece il traffico scorre in maniera regolare sull'intera rete autostradale toscana. Sulla 12 per lavori è chiuso lo svincolo di Rosignano Marittimo, un'entrata verso Genova e un'uscita provenendo da Genova. Per i treni a causa del maltempo circolazione sospesa tra Marradi e Faenza. Per il maltempo sospesi anche i traghetti con l'arcipelago. Muoversi in Toscana è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Anche per oggi è tutto, a domani, buon viaggio! Grazie a tutti!